che era anche il significato di una appartenenza comune, non esitarono, dove oggi ci troviamo, ad impugnare le armi per difendere Piacenza, di fronte alle milizie nazifasciste che chiedevano la resa della città. A distanza di 71 anni da quel 9 settembre, data che coincide con l'inizio della guerra di liberazione nazionale, ci rendiamo più che mai conto dell'importanza per l'Italia del sacrificio di tutti coloro che di fronte allo sbandamento delle istituzioni di allora, in quei giorni terribili furono in grado di trovare dentro di loro il coraggio e l'amore.